Musica Cari amici telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Extra. Come sapete noi abbiamo il grande piacere di avere come nostri ospiti delle personalità, del panorama culturale e artistico. In questo caso ho l'onore di avere ancora qui in mia compagnia Giorgio Chinea Canale, curatore e gallerista da poco anche Cuoco. Ma ne parliamo dopo, ne parliamo dopo di questo aspetto perché vogliamo specificare alcune importanti novità. Bravissima. Benvenuto ai nostri microfoni. No, Beunida, sono io che ringrazio te perché è sempre un piacere. La gentilezza d'altronde non è che bellezza nella vita e quindi venire da te ancora una volta per me è veramente solo che un piacere. Grazie Giorgio, tra l'altro sei uno dei pochi ospiti a cui ho il piacere di dare del tu perché c'è una tale stima che trascendo le forme arriviamo direttamente alla sostanza. Esatto. Veramente. Sei qui per parlare di Eroica. 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 È un nome che ha tuonato questi giorni in giro per Padova. Parliamo di Eroica. Eroica, la nuova, bellissima, meravigliosa, splendida mostra della George Kinnert Cabinet, protagonista all'opera di Gabriel Ortega, il nuovo artista, il quinto artista della galleria. Eroica, una mostra meravigliosa, abbiamo inaugurato il 14 novembre, ormai dieci giorni fa, chiuderemo il 14 febbraio 2020. Eroica, il titolo che è stato battezzato dal sottoscritto, ci tengo perché come tu ben sai, Beunida, io sono anche curatore, no? Si rifà chiaramente alla poetica di Gabriel, ciò che fin da subito mi ha legato incredibilmente a questo artista. Io amo follemente il mondo pop della cultura dei fumetti, dei cartoni animati, lo abbiamo visto anche con Laurina Paperina, che è stata una mia artista ospite, meravigliosa. Lo vediamo con Giovanni Motta, che si rifà tantissimo al mondo Japan e manga, no? E anime. E con Gabriel invece tocchiamo con estrema eleganza il fumetto europeo, non solo, anche quello americano, ma Tenten è la sua icona principe, se vogliamo, la sua icona di riferimento. Lui dice, io sono Tenten. Ecco, chi è Tenten? Tenten è un fotoreporter. Esatto. Tenten è un brillante scopritore di mondi, viaggiatore, accompagnato sempre dal suo fedele amico a quattro zampe, Milù, che ritorna anche lui nella poetica di Gabriel. I cani sono indubbiamente molto meglio degli esseri umani. Tenten è il protagonista dello storico, ormai storicizzato a museo, a opera museale, se vogliamo, fumetto di Hergé, che è considerato appunto uno dei padri del fumetto europeo. E Gabriel appunto ama alla follia questo ragazzino, questo brillante fotoreporter, giornalista, a volte anche Jessica Fletcher che cosa fa? È una investigatrice. In investigatrice, brava, bravissima. E quindi ecco, io sono in uno stato di grazia eroica, mi ha ancora una volta salvato la vita, gli eroi, nel senso più poetico del termine. Io detesto questo periodo dell'anno, novembre, è un mese così triste e abbiamo Gabriel Ortega. Avete voluto celebrare gli eroi, il pantheon di Gabriel Ortega. Bravissima. Un pantheon pop è stato definito. Assolutamente. Sì, certo, perché come ti dicevo prima, non solo Tenten e il fumetto europeo è protagonista di questa mostra, bensì altri eroi della vita dell'artista, da me tutti condivisi, quali ad esempio gli eroi del fumetto americano Capitano America, Flash, piuttosto che icone sacre alla storia dell'arte Frida Kahlo che Gabriel venera ai livelli sia iconografici che iconografici, iconologici di una Madonna, di una Santa. Quindi diciamo che gli eroi appunto sono un pantheon molteplici. Abbiamo parlato di questo pantheon degli eroi e di Gabriel Ortega come artista, ma parliamo un po' della biografia di Gabriel Ortega. Io ho letto nei vari comunicati stampa, nei vari articoli di giornale che sono usciti anche numerosi su questa tua mostra che è colombiano. Sì, lui arriva da Medellin e porta in un trionfo di colori e poesia, secondo me, tutte queste sue radici e tutte queste sue passioni attraverso proprio l'arte. Che cosa c'è di più bello delle tradizioni, no? Lui è un artista veramente sopraffino. Lui è, lo dico da storico dell'arte, il nuovo Andy Warhol. Lo dico senza paura, mai paura avere nella vita. Bisogna ambire ad essere degli eroi. Lui arriva da Medellin e la sua poetica, appunto questo aspetto un po' triste della sua vita, ma d'altronde gli artisti, Beunida, siamo destinati tutti quanti un po' a soffrire. Una malinconia. Brava, mamma mia, che disastro. Il suo papà viene a mancare presto e nei suoi ricordi fonda e getta le basi della poetica, della sua arte. La sera gli raccontava la storia dell'arte e di giorno gli leggeva i fumetti. Il papà. Il papà. E viene a mancare quando Gabriele, l'artista, era molto, molto giovane e di ciò Gabriele è riuscito a fare una crasi e a mettere una corona imperiale, neopop, pazzesca. Lui è fenomenale. Quindi l'arte è anche come qualcosa di salvifico, come un ricordo dell'infanzia, un ricordo paterno. Esattamente, come Motta, i suoi mostri interiori, assolutamente sì. Ecco, quindi non è soltanto per la gente a casa, che magari è un po' profana di queste tematiche, il parlare di eroi, di fumetti, può sembrare un ricordo semplicemente estetico dell'infanzia. In realtà c'è un richiamo anche a delle tematiche importanti. Bravissima. Tutta l'estetica più alta ha sempre dei significati profondi. L'ho detto da te, mi pare, la prima volta. L'estetica è la prima cosa, no? Esatto. Poi però è la cosa che ti obbliga ad andare a fondo. Credo di essermi autocitato. Lo troveremo in una vecchia puntata. In una vecchia puntata. Ho qualche ricordo, in effetti, di questa bella frase. È veramente una morale da sottolineare. Ma è la storia dell'arte che lo insegna, la statuaria classica. Cosa c'è di più bello della statuaria classica? È vero. È la perfezione, no? Ma non è solo la perfezione fisica. È la perfezione del genio, dello studio e dell'equilibrio. Dell'equilibrio. E quindi in questo pantheon pop di Gabriel Ortega, cosa si trova? Cosa deve trovare? Lo spettatore oppure un collezionista? Quale forma di salvezza? Secondo te che sei un curatore, quindi l'hai scelto? Guarda, ho deciso di legare il primo manifesto della mia galleria, che ricordo essere una donna, una bellissima donna. La mia galleria è una donna. Perché l'arte è donna. Ha un'icona della mia vita, Alice nel Paese delle Meraviglie. Io invito lo spettatore, il fruitore, il cliente a immergersi totalmente come Alice fece più volte nella sua vita, ritorno al Paese delle Meraviglie, no? Meraviglioso. Quindi proprio un viaggio. Assolutamente. Ci sono poi due opere particolari. Il Bosco Incantato e Barriera Corallina, che me la ricordano benissimo. Particolarmente. Dove possiamo trovare Giorgio Chinea? I pensieri di Giorgio Chinea Canale? Beh, li potete trovare. Ogni tanto sparisco, ma come gli artisti. Ogni tanto mi bastonano. Io dico, ma come ti permetti? Io non sono, non è il mio mestiere quello dei social. Io mi scarico. Siamo esseri umani. Io, per fare quello che faccio, sono artista. E ogni tanto ho bisogno di staccare la spina. Quindi, bella domanda, beonida, mi potete trovare sui social. Il sovrano in questo momento, non lo so ancora per quanto, è Instagram sicuramente. Giorgio Chinea Art, Cabinet. Ecco, abbiamo parlato di Eroica, abbiamo parlato di Gabriel Ortega, però io non posso, ogni volta che ho qui Giorgio Chinea Canale, non parlare anche di Giorgio Chinea Canale. Perché è un artista, anche lui, cioè non è soltanto un curatore o un gallerista, ma è un artista, una persona che impreziosisce il tempo che si condivide in sua compagnia. Allora, per questo vi volevo dire dove poterlo trovare, perché a me ha molto colpito l'abilità grandissima, estesissima, di fare video, di insegnare, di dare concetti alla gente. Dai proprio i concetti alla gente. Parliamo di Instagram, del tuo Art Calt. Certo. Guarda, Beonida, questo è sicuramente una dote innata, che è stata, però ci tengo a sottolinearlo, sicuramente poi enfatizzata e quindi aiutata dai miei studi. Io sono fierissimo e orgogliosissimo di essere un laureato Dams, Disciplina delle Arti, della Musica e dello Spettacolo. Sono andato poi a Milano a specializzarmi nelle pratiche curatoriali, nei mercati dell'arte, ma io sono uno storico Dams, quindi cinema, video, musica, spettacolo, teatro. Chiaramente poi ho scelto all'interno del Dams il percorso storico-artistico. E quindi è lì che, diciamo, poi insomma io sono un amante del cinema, mastico cinema da quando ho cinque anni, perché il mio amore per il cinema mi è stato trasmesso, la prima grande arte che è entrata nella mia vita è il cinema, perché mi è stata trasmessa da mia madre e da mia nonna, che sono due amanti, anche loro, del grande cinema, di una volta. Una domanda, il tuo film preferito? Il mio film preferito? Wow, che bellissima domanda. I miei amici, la mia famiglia lo sa, lo sanno tutti, il mio film preferito è indubbiamente un film che mi commuove ogni volta come fosse la prima volta. Edward Mani di forbice del 1990 di Tim Burton è un film che ha delle simbologie pazzesche, io adoro la simbologia perché quasi come un archeologo la simbologia ti permette di sviluppare concetti inediti a volte. Edward è un artista, quel film non è altro che la metafora della vita di un artista, Edward ha un handicap perché non è umano, l'artista è umano? No, no, l'artista è genio. Edward ha un handicap, le mani non le ha, ha le forbici e con quelle forbici lui crea statue meravigliose di ghiaccio e con le siepi. E vive nel suo castello isolato e prova a entrare nella società perché la società è curiosa, sono guardoni, lo fanno entrare in questo piccolo paesello anni 60, iper pop, tutto fintamente ipocrita, no? E poi lo massacrano e il finale è qualcosa di veramente arte allo stato puro. Lui torna indietro, non può vivere lì, non può stare lì, si innamora e la cosa che poi ho i brividi, scusate, ho i brividi alla schiena. Kim, tra l'altro, Winona Ryder era bellissima, loro dopo questo film si misero insieme, lui era Johnny Depp. La morale qual è? No, perché è una fiaba, è una fiaba anni 90, già due concetti per me, anni 90 è fiaba. E' una fiaba, è vero. È una fiaba anni 90, tinte pop e noir. Kim invecchia nella sua stanza e racconta la fiaba della sua vita a sua nipote, ho i brividi. Sua nipote gli dice, ma perché non torni a trovarlo? E lei gli risponde, perché lui voglio che mi ricordi come era un tempo. E si chiude il film con Edward, che è rimasto così com'era, perché non era umano, che scolpisce le statue e fa nevicare, attenzione alla poesia, su quel paese osceno. Perché tutta la neve che lui gratta dalle statue cade giù dal castello e arriva alla società che non se l'ha meritato. Tra quello che hai detto e quello che dirò io, è giusto che ci sia un attimo di silenzio. Sì, sì. Perché a volte il silenzio dice molto più delle parole. Sì. E non possiamo che ringraziarti per questa analisi attentissima, questa forte introspezione di un film cult. Sempre solo cult, la mia vita. Che però deve essere valutato da questo punto di vista. È così. Sono tante le tematiche che hai toccato. Hai toccato il tema della solitudine, del creativo, il tema della finta inclusione sociale, il mito dell'eremita, l'amore che va oltre la decadenza fisica, l'amore del ricordo, della nostalgia e la salvezza che l'arte dà. Brava. Tra tutte queste tematiche, quella che è una domanda stupida, ma anche le domande stupide a volte vanno fatte, qual è quella che più ti sta a cuore tra tutte queste tematiche, quella che senti più tua? Ah, ti rispondo con estrema facilità e non la reputo assolutamente una domanda stupida. Il mio tallone d'Achille, io sono un nostalgico, un romantico. Io potessi tornare bambino, con la testa di oggi firmerei un patto con il diavolo. Anzi, neanche la testa di oggi, proprio l'età dell'innocenza, l'età fanciullesca, che poi è quella che io ricerco in quasi tutti i miei artisti. Non ho notato. Per me è stato un periodo cruciale. Io continuerò a pensare, sono certo, nella mia vita, anche più avanti, speriamo, insomma, ecco, cosa farò da grande? Io non lo so. Sto seguendo una strada, ma sono certo che questa strada la sto seguendo molto bene. E intanto andiamo. Quindi anche la tematica della crescita del Peter Pan. Oggi hai pubblicato un bellissimo scritto tuo, che riguarda Alice nel Paese delle Meraviglie. Certo. E c'era la foto del film appena uscito, l'ultimo. L'ultimo di dieci anni fa. Esatto. E l'originale del 51 della Disney, il cartone animato, no? Eh, parliamo di questa critica che mi ha colpito. Sì, beh, tra l'altro Tim Burton è il regista del film, l'ultimo, che ha fatto un'operazione, a mio avviso, stupida, perché la dimensione cult ha portato il film, che tutti si aspettavano, a dimensione mainstream. Ha sbagliato. Ma lui non è più cult, purtroppo, lì a Hollywood, è un grandissimo regista, è uno dei miei preferiti, ma quella dimensione con cui è nato Burton non esiste più. Alice, Alice, molto banalmente potremmo fare una puntata intera, secondo me, su Alice nel Paese delle Meraviglie. Beh, lo faremo. Volentieri. Ci organizziamo. È una fiaba dandy, è una fiaba british, ironica, non-sense, furba, intelligente, geniale, ed è un'allegoria, un simbolo continuo. Esatto, soprattutto quello. Brava. Banalmente potrei risponderti anche che Alice mi ricorda mia mamma. E l'avevi scritto, mi ha colpito. Esatto, mia mamma mi dice sempre, scusa, ma io ti ricordo quella Cretinetti, non è quello, è un discorso più legato alla poesia, al modo di vivere. Ecco, Alice era una bambina molto allegra, mia mamma è la mia musa. Ma dai, ecco cosa andiamo a scoprire scavando, scavando, scavando. Ma certo, assolutamente. Il rapporto più nobile è che esista madre e figlio, figlio che riconosce la madre e la musa nella madre. Certo, poi ci sono sempre dei rovesci della medaglia che forse non è la sede adatta. Va bene, no? Quelli purtroppo ce li abbiamo un po' tutti con i genitori. Ognuno, ma certo, per amor di Dio, però ecco, io se sono quello che sono oggi, ovvero un giovane gallerista di 31 anni e curatore, lo devo alla mia mamma e alla sua famiglia. Quindi una donna che comunque ha dato la creatività al figlio, ha donato la creatività. E' un architetto mancato, mia mamma ha un gusto per lo stile, la moda, il glamour, l'eleganza innata, sono doti che non puoi imparare. Ecco, sono doti innate. Assolutamente sì. Ma innate significa che si nasce già con questa dote o che viene tramandata da generazione in generazione? Può essere tramandata, sì sì, ma assolutamente mia nonna uguale a lei. Ah, ecco. Per me, insomma, sono due figure portanti della mia vita. No, viene assolutamente anche indirizzata, certamente. Poi non è così, ci possono essere anche i casi delle figlie ribelli, no? Che poi scopriamo che sono delle punk e in realtà sono figlie della cugina della regina di Inghilterra. Però diciamo che è una dote innata. Nella vita devi avere però l'intelligenza e la fortuna e la testa di saperla coltivare bene, perché è a mio avviso una dote innata. Allora, abbiamo parlato di arte, abbiamo parlato di Giorgio Chinea Canale come uomo d'arte, personalità d'arte, sia dal punto di vista degli studi che ha condotto che del lavoro che sta conducendo. Però io vi avevo detto in apertura, ve l'avevo promesso, che saremo andati a scavare su un'altra peculiarità caratteristica di Giorgio Chinea Canale, che da pochissimo ha raggiunto un altro importante obiettivo, è ufficialmente cuoco. Assolutamente. Io potrei professare, sono un professionista. Esatto. È stato il coronamento di un altro grande amore della mia vita, un'altra mia grande passione tramandata tutta dalla famiglia materna, chiaramente. La cucina è un'arte, senza ombra di dubbio. È magia. Io quando cucino spesso, come riferimenti concettuali, ho le pozioni magiche in testa. L'alchimia. Brava. Che meraviglia. È equilibrio, è poesia, è un atto d'amore. Io l'ho fatto per tre motivi. Tre. Scusa, ti devo interrompere. Amici a casa, amiche a casa, vi prego, dovete assolutamente notare come tratta la materia della cucina, con una capacità, con una dolcezza, con un'attenzione alla poesia dell'atto. Su Instagram dici tu. No, no, adesso. Ah, ok. I termini che utilizzi. Certo. L'attenzione, la dolcezza. Ah, grazie, grazie. Grazie, grazie, Benida, grazie. Prego, io ti ascolto con attenzione. L'ho fatto per tre motivi. L'ego, il primo, la piramide, no? Nella mia cucina, io sono da quando ho 13 anni il cuoco di casa. Ho sempre avuto dei grandissimi aiuti. Il cuoco, senza la sua brigata, non è nessuno. Sappiatelo bene, eh. Però io realmente cucino, ho preso in mano la cucina di casa veramente da quando avevo 12-13 anni. Però? L'età in cui impari a non scottarti col fuoco, più o meno, no? L'ho fatto per il mio ego, quindi nella mia cucina c'è il mio diploma. L'ho fatto per la mia famiglia, per la quale da sempre cucino, ma da adesso cucino anche in un altro modo, no? E certo, con una consapevolezza diversa. Perché comunque è stato un percorso lungo e molto bello, soprattutto la prima parte accademica. L'altra parte è stata un po' dura, però comunque sempre in ottimi ambienti. E poi l'ho fatto, attenta bene, perché qui esce il pelo nello stomaco ed esce il mercante che ha in me, per i miei collezionisti. Perché io più volte all'anno dedico agli illuminati collezionisti della Giorgio Kinnert Cabinet delle cene con gli artisti molto divertenti. E insomma, il mio lavoro è molto difficile, oggigiorno tutto è difficile, però insomma i collezionisti sono sempre di più. Sono giovani, bravi, non sono i genitori, sono i figli, gli amici nostri, nove su dieci. Si fidano di me. D'altronde l'arte è come la borsa, cioè tu togli dal mercato, investi dei soldi. Quindi se il curatore, il gallerista, l'art advisor ti ha indicato bene, sai che quell'opera cresce di valore. Ma la cosa bella è che ce l'hai in casa e puoi godere di tutta quella bellezza, no? Qual è un piatto che ti riesce particolarmente bene e che offri ai tuoi commensali? Guarda, io amo la trasversalità. Non sono un cuoco che dice a me non piacciono quelle cose, quindi non voglio saperle fare, perché è una sfida, no? Io voglio, sono molto curioso, Alice. Beh, questo si era capito. Alice era curiosa, no? Questo si era capito. Sono curiosissimo, no? I sapori, i sapori non sono altro che come le opere d'arte che vedi, i sapori sono quelli che senti, no? I sapori del mondo. Andare a vedere al Louvre la sala dello storicismo francese è un po' come andare a scoprire al mercato delle spezie, capito? Certo, al souk di Gerusalemme, bravissima, il curry, la curcuma, medio, forte, dolce, quindi la curiosità è quella. E quindi scusami, i miei piatti preferiti sono indubbiamente i risotti. Ah, quindi i primi, siamo nell'ambito dei primi, quindi un primo difficile come il risotto. È il primo più difficile perché ha tre difficoltà non indifferenti. Quali sono i punti critici del risotto? Vuoi che te li dica? Sì, dimeli tu, non fare questa domanda a me. Allora, i punti critici del risotto, saluto il mio chef della scuola, sono, grande chef nel mio cuore sempre, sono la tostatura del riso che va effettuata a secco, sono la cottura per evaporazione, quindi per, non mi viene la parola, però comunque ci siamo capiti, per evaporazione, cioè credo che dopo mi arriverà. Non è a bagnomaria? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Scusami, no, è che non mi viene la parola, la cottura, andiamo oltre al terza fase, la cruciale, la mantecatura, quindi rendere cremoso il risotto, no, è un momento particolare perché devi servirlo all'onda, è fondamentale. Perfetti, è quello proprio il problema, cioè che sia all'onda, 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 io ho provato solo uno nella mia vita all'onda, non posso dire dove, comunque a Venezia, e devo dire che da quella volta lì cerco sempre il risotto all'onda, perché crea dipendenza purtroppo. Assolutamente. Quando provi una cosa che ti piace poi la ricerchi sempre, è come una forma di amore immortale. Dolci? Ah, guarda, qui entra in me il Veneto, il campanilismo totale, il dolce più buono del mondo, posso convincere le masse, è il tiramisù. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Io amo il tiramisù, che ti racconto una cosa, che ho scoperto, me l'ha raccontata la mia nonna, il tiramisù, la leggenda narra che fino agli anni 70, quindi le nostre nonna erano delle giovani. Bellissime ragazze come adesso. Il tiramisù è brava, che cucinavano per le loro famiglie, si chiamava dolce al caffè, il nome tiramisù è recente. Non lo sapevo. Neanch'io, penso che quando me l'ha raccontato la mia nonna, ho detto, ma veramente nonna? Sì, 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 è negli anni 70 che si è iniziato a chiamare così, prima era semplicemente chiamato dolce al caffè. Quindi è una conferma del fatto che sia Veneto sia italiano, perché ce lo vogliono prendere persino gli inglesi, non so come mai, come hanno fatto. Il tiramisù è nostro ed è il dolce più buono del mondo. Quindi con questo decreto, con questa sentenza, con questa presa di consapevolezza del tiramisù, purtroppo siamo in chiusura, però io voglio che Giorgio Chinea Canale, questo veramente amato nostro ospite, che saluti il pubblico a casa con una frase, un pensiero. Ah, Beonida, me le lanci sempre sul finale. Le te le lanci, sì. E io vorrei pensarci otto giorni. Un pensiero. Evviva la buona cucina, amica fedele dei giorni noiosi. Tra parentesi, per chi la ama. Meraviglioso, veramente un saluto favoloso. Quindi noi rimaniamo in attesa delle grandi novità della Giorgio Chinea Art Cabinet. Vi ringraziamo, ti ringraziamo per la tua presenza qui in puntata. Ci vediamo prestissimo. Diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla Giorgio Chinea Art Cabinet, che è vicinissima al Pedrocchi. Siamo sul lato ovest del Caffè a Pedrocchi. Quindi per chi volesse ci dia un'occhiata, fino al 14 febbraio troverà Ortega, le meravigliose opere di Ortega, il suo Pantheon Pop. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana sulla stessa rete, alla stessa ora, su Caffè TV24. A presto, un abbraccio. Grazie a tutti.